direi che possiamo iniziare ok ok benissimo allora come avete visto oggi facciamo lezione non facciamo laboratorio come già anticipato perché poi perdiamo una lezione il 25 aprile però comunque ci viene comodo perché stiamo facendo un'introduzione a react e quindi parliamo di una caratteristica fondamentale che ci seguirà per un po' di lezioni di react che è quella della gestione dello stato lo stato dell'applicazione vediamo come come react gestisce in generale lo stato e come possiamo usarlo per sviluppare le caratteristiche principali della nostra applicazione ok quindi oggi faremo lezione martedì prossimo faremo ancora lezione come sempre durante la lezione io farò vedere degli esempi col codice portiamo avanti il nostro progetto che è quello della lista delle risposte che stiamo portando avanti fin dall'inizio del corso e quindi oggi aggiungiamo un po' di stato e poi troverete nel prossimo laboratorio che sarà quindi il prossimo giovedì qualcosa da fare in react quindi da inizializzare il vostro progetto e da cominciare a sviluppare lì dentro in questo progetto che anche lì è un progetto che continua dall'inizio del corso diciamo troverete da crearlo con react e quindi pensare ai primi componenti da inserire nella vostra applicazione e poi piano piano inserendo le varie funzionalità che richiediamo con anche l'uso un pochettino dello stato pensiamo di pubblicare il testo del laboratorio già oggi se non oggi è il massimo domani per darvi la possibilità di guardarlo e eventualmente di iniziare per chi volesse cominciare a provare qualcosa ok quindi non perdiamo altro tempo su questa introduzione e andiamo a vedere come funziona la gestione dello stato in react noi vi ricordate abbiamo parlato di componenti e abbiamo detto che i componenti in react che sono il metodo che ci consente di isolare pezzetti di interfaccia utente gli uni dagli altri quindi scriverli in una maniera facilmente riutilizzabile questi componenti li scriviamo sotto forma di funzioni funzioni pure che vuol dire che ritornano lo stesso identico valore nel momento in cui passiamo gli stessi identici parametri vi ricordate che passiamo un unico parametro che sono le properties quindi un oggetto in realtà è però un unico parametro concettualmente che ha una serie di proprietà se abbiamo dato le stesse proprietà ci aspettiamo che quel componente di react ci ritorni lo stesso pezzettino di interfaccia utente il jsx che abbiamo scritto le altre volte quella specie di codice html inframmezzato a codice javascript questo metodo di lavoro si porta dietro il fatto che così facendo non possiamo avere uno stato perché ogni volta che chiamiamo la funzione il suo risultato dipende esclusivamente da quello che passiamo e quindi all'interno della funzione non ci può essere memoria di cosa è successo in precedenza ok perché perché tutto dipende solamente dai parametri che passiamo da queste props e alla stessa maniera non vogliamo avere effetti collaterali cosa vuol dire effetti collaterali vogliamo vuol dire andare a scrivere quindi a memorizzare dell'informazione non dentro la funzione ma al di fuori della funzione o agire e fare qualche azione al di fuori della funzione che potenzialmente può non essere ripetuto uguale alla prossima esecuzione della funzione con gli stessi parametri quindi con le stesse props possiamo fare altre cose come per esempio definire delle funzioni di handler per gestire delle azioni però diciamo che se non abbiamo la possibilità di memorizzare informazioni relativamente a cosa è successo non sono particolarmente utili possiamo fare un'azione diciamo così immediata ma non possiamo memorizzarla tra un'invocazione e l'altra della nostra funzione cioè del render, della visualizzazione del nostro componente e quindi abbiamo bisogno di un meccanismo che ci consenta di superare queste limitazioni e React ce lo fornisce sotto forma di UCS UC vuol dire gancio come avete visto dal disegnino della slide precedente cioè sono dei ganci che React ci mette a disposizione utilizzabile dentro i nostri componenti in una maniera ben controllata secondo quanto ci specificheranno le linee guida di sviluppo di React e con questo sistema potremo andare ad aggiungere queste funzionalità in particolare lo stato di cui parliamo stamattina che ci sono particolarmente utili nell'applicazione vi faccio un esempio molto banale l'altra volta abbiamo visto un bottone che se schiacciato diventava con la scritta inglese piuttosto che italiano avevamo uno stato da ricordare che era la lingua o comunque l'ultimo stato appunto in cui si trovava il bottone l'abbiamo solo intravista abbiamo detto ne parleremo oggi ne parliamo il fatto che React voglia usare delle funzioni pure per realizzare i componenti fa sì che su questa gestione dello stato dobbiamo stare molto attenti cioè dobbiamo seguire scrupolosamente le indicazioni che ci vengono dal framework che adesso noi andiamo ad analizzare ok? gli hook in realtà non riguardano solo lo stato ma riguardano tutta una serie di funzionalità in particolare anche il ciclo di vita del componente che è un qualcosa su cui spenderemo anche lì molto tempo durante le lezioni perché sarà poi l'hook che ci consentirà di andare a portare dentro informazioni dall'esterno quindi di caricare le informazioni dal server di interagire col server e così via oggi però ci concentriamo su un hook in particolare che è quello dello stato ecco sono stati inseriti da non tanto tempo in React ma diciamo che comunque diciamo sono quasi 5 anni e fondamentalmente oggigiorno sono il metodo standard con cui si sviluppa in React per quanto riguarda lo stato per cui noi vediamo questo e poi come sapete l'informatica evolve molto rapidamente quindi diciamo questo può darsi che prima o poi qualcosa cambi anche in React diciamo che negli ultimi anni si è visto che sono molto utili facili da usare abbastanza intuitivi e così via quindi probabilmente è un qualcosa che resterà almeno per un po' comunque il concetto generale di gestione dello stato in un'applicazione web è un qualcosa che va oltre React quindi dobbiamo comunque impararlo a prescindere dal fatto di come in React è stato implementato come in altri libri viene implementato ok quindi qui trovate gli hook più popolari noi fondamentalmente vedremo solo i primi tre e fondamentalmente chiediamo di usare per l'esame solo i primi tre poi c'è chi sviluppa già in React è quello che vuole far pratica vuole imparare di più vuole approfondire eccetera non è vietato usare gli altri però diciamo siete per conto vostro nel senso che non siamo in grado di fornirvi aiuto e soprattutto quando non funziona dovete trovare poi la soluzione il motivo per cui non funzionano è all'esame eventualmente spiegare per quale motivo l'avete usati ok quindi noi oggi parliamo del look dello stato poi gli altri li vedremo li vediamo con calma soprattutto l'effetto è quello che ci serve per il ciclo di vita e poi il contesto non è particolarmente difficile però può tornarci utile in qualche contesto però non è così appunto impegnativo come il secondo oggi parliamo dello stato quindi facciamo un po' un riassunto di quello che abbiamo visto finora su React un componente React questa grossa scatola che vedete al centro della slide riceve come parametri delle props questa prima parte è quella che abbiamo visto finora che abbiamo provato a fare l'altra volta abbiamo passato dell'informazione per esempio abbiamo passato alla tabella in una prop la lista delle risposte degli oggetti risposta che volevamo visualizzare e questa si incarica di creare l'interfaccia utente corrispondente a quella lista questo è il componente che riceve le props le props potranno essere ricevute anche da un context che appunto dicevo vedremo poi successivamente quando ci sarà bisogno e possiamo e lo dicevamo stamattina ricevere informazione anche da uno stato che dobbiamo chiarire come utilizzare come far funzionare in React mentre dalle props riceviamo solo informazione nello stato possiamo anche immagazzinare informazione infatti c'è questa freccia che torna indietro quindi lo stato è un qualcosa in cui possiamo memorizzare dell'informazione e questo è utile come dicevamo prima c'è il bottone che deve ricordarsi il suo stato è italiano e inglese oppure ci sono altri elementi dell'interfaccia dell'applicazione che devono ricordarsi il loro stato aperto, chiuso e così via oppure del motivo principale per cui noi vogliamo usare lo stato nell'applicazione nello stato possiamo mettere i dati i dati applicativi della nostra applicazione quindi che servono alla nostra applicazione per esempio la lista delle risposte o la lista dei film per il laboratorio e andarli a manipolare manipolare e quindi cambiando qual è l'informazione contenuta in questi dati e dicendo a React di occuparsi di visualizzare esattamente quell'informazione così come noi l'abbiamo modificata, aggiornata, cancellata e così via il componente React come sapete ci ritorna un element tree cioè quel return del JSX che noi facciamo nel codice che deve avere un'unica radice che si occuperà di essere trasformato poi nel DOM quindi negli elementi HTML che compongono la pagina sulla base di quello che noi ci scriviamo dentro quindi di tutti i componenti e figli che noi andiamo a inserire a cui passiamo le varie props sotto forma di attributi del tag che andiamo a utilizzare i tag predefiniti sono già stati creati da React i tag che creiamo noi sono i nomi delle funzioni che diventano componenti definiti da noi che React sa poi come gestire e quindi torniamo in questa situazione quello che dobbiamo sapere dello Stato è che lo Stato è privato cioè è visibile solo al componente e si può modificare solamente da dentro il componente questo è un concetto fondamentale cioè è il componente dove abbiamo definito lo Stato quello incaricato di modificare lo Stato ciò non significa che poi non possiamo avere qualche trucco qualche meccanismo per farci dire ad altri componenti che è necessario modificare lo Stato infatti passeremo delle callback ad altri componenti in maniera che siamo in grado di farci richiamare far la modifica allo Stato quando ce n'è bisogno però in generale come regola diciamo del framework React lo Stato è proprio di un certo componente quindi dove noi decidiamo di mettere lo Stato una scelta importante una scelta implementativa importante nella nostra applicazione cioè noi prendiamo un componente e lì dentro decidiamo di metterci lo Stato un certo Stato poi possiamo avere più Stati sparsi in giro per l'applicazione però noi dobbiamo sempre pensare a qual è il posto dove questo Stato è più utile e più comodo all'interno della nostra applicazione e questo sarà oggetto di tantissime riflessioni da adesso in poi mentre andiamo avanti nel corso quando lo Stato cambia in generale il componente viene rirenderizzato cioè React sa che dentro quel componente c'è uno Stato perché andremo a definirlo chiamando una funzione apposita di React quindi React si ricorderà che dentro questo componente noi vogliamo avere uno Stato e questo Stato quando lo andiamo a modificare React sa che deve rirenderizzare il componente come sa che tutte le volte che cambiano le props passate a un componente quel componente deve essere rirenderizzato cosa vuol dire? vuol dire che bisogna che React chiami nuovamente la funzione relativa al componente e si faccia dare dal return il jsx quindi tutti i tag html dei componenti da sviluppare ulteriormente per decidere come visualizzare quel componente se la visualizzazione cambia vi ricordate l'altra volta aggiorna il Virtual DOM che poi viene portato nel DOM vero e quindi nella visualizzazione vera del browser ok? quindi queste sono le due cose fondamentali che dobbiamo ricordarci riguardo allo Stato il contesto ne parleremo più avanti delle props abbiamo già parlato ma le props non sono un posto dove tenere lo Stato noi non possiamo andare a modificare i valori delle props se le modifichiamo non succede nulla nel senso che React non si aspetta che vengano modificati per cui quando facciamo una modifica non cambia nulla React non capisce che deve rirenderizzare il componente eccetera perché non è pensato in questa maniera anzi la prossima volta che il componente viene rirenderizzato le props ci arriveranno perché sono solo la lettura e quindi tutto ciò che noi avremo fatto lì dentro andrà perso d'altronde le props sono sostanzialmente una variabile locale diciamo così passata la funzione che realizza il componente comunque noi non tocchiamo le props se no diciamo in sola lettura quindi le usiamo solo e così abbiamo finito ok passare le props l'abbiamo già visto come si fa vi ricordo che possiamo passarle sotto forma di stringhe piuttosto che di altri tipi javascript validi quindi numero piuttosto che true false piuttosto che null undefined che però di solito diciamo ci servono a poco piuttosto che array o oggetti ok questi sono i tipi fondamentali di javascript li passiamo come se fossero appunto attributi html quindi nome dell'attributo uguale e ce lo ritroveremo in props punto nome che abbiamo messo qui dentro il componente ok quindi questo l'avevamo visto e l'abbiamo visto l'altra volta veniamo allo stato come facciamo a creare uno stato cioè a dire che in un componente c'è vogliamo uno stato usiamo questa funzione predefinita da react che crea per noi uno stato cioè usiamo questo gancio dentro react per andare a creare questo stato vediamo un esempio questo function short text questo è un componente che riceve delle props che ha il suo return del codice jsx un semplice span che vi ricordo il tag che racchiude qualsiasi cosa in forma inline quindi non va capo non crea un blocco e qui dentro ci mettiamo quello che desideriamo noi qui abbiamo messo aprendo la graffa semplicemente del testo quindi abbiamo sostanzialmente cosa abbiamo messo props punto text quindi del testo che viene passato il componente ci sarà qualcuno che scrive minore short text poi spazio text uguale quindi una proprietà con un suo valore che è quello che vuole che venga visualizzato dal componente e questo componente deciderà come visualizzarlo se nella prima forma o nella seconda forma sulla base di che cosa? di un valore questo hidden che non è più una props cioè non è props punto hidden quindi non è più passato ma è uno stato un qualcosa che il componente si ricorda tra un'invocazione e la successiva ok? quindi quando react deve renderizzare short text metterà a disposizione di short text il valore di hidden perché noi l'abbiamo la prima volta creato con questo use state e le altre volte ci verrà messo a disposizione ricordato in qualche maniera per ora diciamo così magica da react poi vedremo come fa sulla base di questo valore il componente è libero di fare le sue azioni quindi questo valore è una variabile javascript come tutte le altre può essere usato in qualsiasi forma che noi riteniamo opportuna quindi può essere usato per decidere che cosa visualizzare per esempio hidden qui fa un substring quindi taglierà la stringa a un certo numero massimo di carattere piuttosto che la visualizza per intero ok questo è un esempio l'iden potrebbe anche essere passato come props a componenti figli è una variabile come tutte le altre è un valore che noi possiamo usare per quello che desideriamo ok che tipo ha lo stato lo decidiamo noi in javascript le variabili non hanno un tipo sono i valori che hanno un tipo quindi noi quando creiamo uno stato possiamo metterci dentro il tipo che vogliamo possiamo mettere una stringa un numero un boolean un array un oggetto ok quindi quindi di solito è un valore abbastanza semplice anche perché noi possiamo fare più chiamate use state quindi avere più stati che corrispondono a diverse variabili quindi cerchiamo di separare le variabili se ne abbiamo più di una per lo stato perché così sono più facili da gestire però nulla vieta che questo sia un oggetto vedremo proprio questa mattina nei nostri esempi quando abbiamo bisogno metteremo dentro anche un array per esempio un oggetto l'array delle risposte piuttosto che l'array dei film e così via ecco non ha necessità di rappresentare lo stato completo del componente perché possiamo avere più user state nello stesso componente vedremo poi un esempio come funziona la funzione use state la funzione use state funziona in questa maniera ci ritorna due valori anzi sì diciamo due riferimenti sarebbe meglio dire uno il primo alla variabile che noi vogliamo usare dentro il componente come contenitore dello stato e il secondo ha una callback da chiamare per cambiare il valore dello stato è assolutamente obbligatorio usare questa callback che ci viene ritornata dalla use state per cambiare il valore di id noi non potremmo mai scrivere nel componente id uguale a qualcosa perché perché reatta necessità di sapere che noi stiamo cambiando il valore dello stato prima di tutto perché deve memorizzarsela il secondo perché deve scatenare tutte le azioni di render necessarie ad aggiornare l'interfaccia se noi scriviamo id uguale questa è un'azione javascript quindi cambiamo un valore in una variabile javascript e nessuno ha modo di andare a verificare se il valore è uguale a prima o no ci sono altri framework che pensavano diversamente in questo contesto però diciamo react non la pensa in questa maniera ok quindi non va a verificare per noi se il valore dello stato è cambiato ma siamo noi a dover dire react tramite la callback che stiamo cambiando lo stato ok guardiamo l'ultimo pezzettino di esempio così concludiamo il discorso dell'esempio e vediamo anche un esempio di un event handler quindi di un gestore di un evento quindi questo span aveva del testo e va bene quello chiuso tra la parentesi graffa aperta e chiusa che dipende dallo stato e poi e poi c'è un un a un anchor quindi un pezzettino di testo cliccabile perché abbiamo messo dentro del testo more or less in cui abbiamo messo un event handler su un evento on click praticamente tutti gli elementi html anche i nostri componenti hanno a disposizione una serie di eventi di handler di eventi fondamentali che sono abbiamo detto l'altra volta per esempio on click on click on double click eccetera la classica azione che facciamo nell'interfaccia web di cliccare piuttosto che c'è un on change se è qualcosa che può cambiare per esempio quando vedremo i form scriviamo dentro c'è on change bene quindi come facciamo agganciare un event handler a un evento dobbiamo specificare nome dell'evento uguale il nome dell'evento lo dobbiamo sapere c'è la lista forse c'è un po' più avanti la lista abbastanza completa degli eventi e dentro dobbiamo mettere che cosa una callback da richiamare quando l'evento si verifica ok quindi questo è il motivo per cui non abbiamo scritto set hidden false ma abbiamo scritto aperta chiuso graph freccia perché deve essere una callback deve essere una funzione scrivere diversamente un errore non possiamo scrivere set hidden false avremmo potuto scrivere se ci fossero definiti una funzione qualcosa il nome della funzione qui dentro ma la funzione andava definita il nome della funzione è il riferimento alla funzione il solo nome della funzione non la chiamata e ovviamente ci saremmo però persi la possibilità di passare dei parametri così invece definiamo una funzione che non prende parametri e fa un'azione set hidden false qui possiamo passare i parametri che vogliamo perché questo è il codice della funzione che è la callback che diamo al onclick e se hidden è dunque cos'era se era true no false si era era true quindi ci deve mostrare more no mi sa che mi sa che vabbè avranno invertito more o less insomma e in un caso se se c'era il il testo corto quindi lo stato diceva di visualizzare il testo corto noi clicchiamo cambiamo lo stato così react scatena rrender lo stato è cambiato e viene visualizzato la cosa opposta nella parte precedente altrimenti facciamo la cosa opposta quindi nel momento in cui viene visualizzato una porzione di testo noi scriviamo more or less a seconda di quello che viene visualizzato nella parte precedente qui mi sa che c'è qualcosa che non tolgo perché se hidden è true facciamo un pezzettino solo di testo e quindi se hidden è true voglio settarla a false ah si more no è giusto quindi more quindi c'è solo un pezzetto di testo ne voglio di più quindi lo metto a false cioè non nascondere e quindi more mi dice di visualizzarlo tutto no? quindi devo avere ovviamente un'interfaccia verso l'utente coerente col mio stato ma questo sta a me scrivere le cose in maniera coerente prima mi stavo un po' confondendo se invece è false scriverò less e avrò un on click che ha come callback l'impostazione di true per tornare all'altro stato questo è uno stato molto semplice binario che gira tra true false ma chi ha deciso che gira tra true false l'ho deciso io l'ho deciso io che programmo l'applicazione come vi dicevo sono io che decido che cosa metto nello stato true false 0 1 2 quello che voglio numeri string e così via ok? basta che sia un valore valido javascript quindi questo è il concetto fondamentale di come funziona lo stato come vabbè questo riassume un po' tutto quello che abbiamo detto ovviamente come abbiamo già visto negli esempi queste funzioni vengono importate dalla libreria di react quindi dovremmo fare questi import all'inizio del codice se no ci dirà semplicemente che useState non esiste e ok tutto il resto più o meno dovremmo averlo visto vi ricordo solo questo assegnamento è const idense idense useState questo è un cosiddetto assignment destrutturato cioè la set la useState ci ritorna un array di due elementi e noi automaticamente lo assegniamo al primo e secondo elemento di questo array che non ha un nome ma noi il nome dell'array non interessa noi interessa avere riferimento al valore e alla callback ritornate la cosa importante è che la useState si ricorda il valore della variabile di stato ad ogni chiamata quindi si ricorda ciò che noi abbiamo lasciato nel codice e questa è l'unica maniera che abbiamo di far ricordare a React qualcosa non possiamo inventarci in nostre maniere io ho visto in questi anni di tutto per fortuna poco però funziona molto fantasiata ma nessuna è garantita funzionare se non questa non è che possiamo inventarci la nostra variabile globale perché rompiamo tutto il modello di funzionamento di React perché poi nessuno ci garantisce che il render quindi la visualizzazione dell'interfaccia utente sia coerente col nostro stato ok chiamate sempre questa seconda secondo valore ritornato dalla useState set con nome della variabile di stato altrimenti non si capisce più niente nel codice ma questo penso sia abbastanza intuitivo in generale non ho mai visto nessuno che facesse cose strane in questo senso quando chiamiamo la set di una useState React ovviamente aggiornerà lo stato tra adesso diciamo due parole in più su come avviene l'aggiornamento e lancia un re-render di tutta la parte di applicazione che dipende da questo stato quindi ovviamente il componente il componente stesso più tutti i componenti che dipendono da quello se noi abbiamo passato lo stato come props a qualcun altro altrimenti rimarrà confinato in quel componente quindi ricordate React sa quali erano i valori delle props per ogni componente se vede che cambiano rirenderizza il componente va a ricalcolare i valori props passati ai componenti figli e va avanti creando un nuovo virtual DOM lo confronta col precedente e va a fare gli aggiornamenti nel browser quindi nella visualizzazione vera ok cosa passiamo come parametro alla useState passiamo il valore iniziale dello stato questa è una variabile che va inizializzata ma noi vi ricordo non possiamo scrivere che so qui english uguale qualcosa questo è vietato da React e quindi come facciamo all'inizio quando il componente viene renderizzato la prima volta a dare un valore iniziale bene e questo è il parametro passato alla useState che quindi viene usata solamente la prima volta si c'è una domanda lo stato accetta qualsiasi cosa quindi string numeri boolean array oggetti e addirittura funzioni quindi se accetta una funzione chiamerà la funzione per calcolare questo valore iniziale lo stato diciamo che questo in questo ultimo caso è un po' raro ma accetta di tutto nel manuale di React ovviamente ci trovate tutta questa specifica completa noi cerchiamo di riassumere e capire il concetto quindi questo è un classico bottone come come quello che avevamo visto l'altra volta non è inutile che andiamo a rivederlo è uno stato button ci scrivo dentro hello ciao questo in realtà non c'è l'handler quindi non si può più cambiare se no dobbiamo farlo come prima con gli id e qui c'è english o non english ok tutte le modifiche dello stato devono essere richieste tramite la callback ritornata dalla use state mai 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 modificare lo stato cioè il valore della variabile di stato direttamente ok come viene aggiornato lo stato viene aggiornato in maniera asincrona questo è javascript tutto avviene in maniera asincrona ok quindi non è immediato se io scrivo nel mio codice set che so quello di prima set english uguale false no set english aperta tonda false poi la riga dopo non è che posso aspettare che in english ci sia scritto false non ci sarà scritto false ci sarà la prossima volta che il componente viene renderizzato perché react tra il render di un componente e il successivo render dello stesso componente fa un sacco di cose incluso aggiornare in maniera asincrona gli stati così come è stato richiesto ok quindi questa è una certa serie di conseguenze che adesso vediamo poi piano piano arriviamo all'esempio quindi noi possiamo aggiornare lo stato con un nuovo valore e questo abbiamo solo detto che è asincrono ma è il caso più semplice no il valore è noto vogliamo metterci dentro vero falso 1 2 3 meno 5 quello che vogliamo è un valore lo conosciamo ce lo mettiamo punto possiamo anche dire a react aggiorna il valore dello stato calcolandolo dal valore precedente dello stato perché se l'operazione di aggiornamento dello stato dipende dal valore precedente dello stato stesso se avviene in maniera sincrona io non so più quant'è il valore dello stato fino a che questo stato non è stato calcolato da react e quindi per fare in modo che tutto funzioni cioè tutti gli aggiornamenti di stato che voglio che siano eseguiti siano effettivamente eseguiti devo passare anche in questo caso una callback al set dello stato che venga eseguita da react nel momento in cui vuole effettivamente aggiornare questo stato e questa callback dovrà prendere come primo parametro il valore vecchio dello stato che react si incaricherà di passare a questa callback che ho creato io e io ritornerò il nuovo valore dello stato che react dovrà mettere dentro la variabile di stato ok vi può sembrare un po' macchinosa ma diciamo che il meccanismo fondamentalmente dice se tu conosci già il valore come nel caso in cui stiamo facendo un reset il reset porta il valore numerico a 0 qualsiasi cosa succeda deve essere 0 non mi interessa il valore precedente se io invece sto facendo una modifica allo stato quindi voglio incrementare di 1 aumentare di 1 diminuire di 1 fare un'operazione e così via sto facendo un calcolo che dipende dal valore precedente dello stato ma se qualcuno non mi ha ancora aggiornato il valore precedente dello stato rischio che essendo gli aggiornamenti asincroni mi perdo un calcolo nel frattempo ok quindi nel più 1 per esempio ad ogni click io voglio fare più 1 di un valore che è proprio il caso classico in cui si vede se il computer non è veloce mi perdo un click perché magari due click avvengono rapidamente e react mi fa un unico render dopo i due click se io ho fatto l'aggiornamento facendo direttamente più 1 sul valore della variabile di stato mi sono perso un click perché perché react non sa che io volevo fare un calcolo sulla base dell'ultimo valore disponibile nello stato prende l'ultimo valore disponibile ad ogni render ci fa più 1 e lo mette come nuovo valore e non mi garantisce che tutte le volte che io ho invocato la set dello stato sia disponibile l'ultimo valore calcolato dello stato questo è garantito solo se io ho scritto una callback come azione da svolgere per settare lo stato in questo caso tutte le callbacks sono in coda diciamo nella lista delle callbacks non dell'event loop ma di quelle che react deve eseguire e quindi non se ne perde nessuna ognuna dipende dal valore precedente dello stato react passa questo stato io faccio il calcolo e il nuovo valore va alla prossima callback per fare il nuovo calcolo quindi tutti più 1 che faccio per esempio non vanno persi ok ovviamente non devo modificare il valore dello stato passato ma questo va da sé perché la modifica è il valore di ritorno della callback non servirebbe a niente è un valore temporaneo che va poi perso ok quindi se io devo calcolare il nuovo valore dello stato in funzione del vecchio dovrò sempre passare una callback alla funzione set dello stato che mi ritorna la use state quindi una cosa come quella di sopra non va bene ma devo fare una cosa come questa di sotto ok perché l'operazione di aggiornamento dello stato è asincrona forse sincrona funzionerebbe ma non è così ok perché perché l'aggiornamento dello stato può essere complicato può richiedere tempo quindi react è deciso di tenerlo asincrono perché nel frattempo deve fare anche tutta un'altra serie di operazioni aggiornamento del virtual DOM applicare le modifiche del virtual DOM sul DOM eccetera eccetera quindi asincrono lo fa nel momento in cui ritiene opportuno mi raccomando questo è un errore classico ovviamente non è particolarmente difficile da evitare perché perché se noi abbiamo un nuovo stato che dipende dal vecchio dobbiamo solo scrivere il nuovo stato in funzione del vecchio come faremo ma sotto forma di callback e non sotto forma di calcolo diretto cioè il calcolo è sempre lo stesso più 1 solo che dobbiamo scriverlo sotto forma di callback e non sotto forma di calcolo diretto in quel momento perché questo è un calcolo che viene immediatamente eseguito da javascript questa è una funzione che verrà eseguita da React nel momento opportuno ok la cosa interessante di tutto questo gestione dello stato è che lo stato lo possiamo modificare non solo direttamente nel codice del componente durante il render ma lo possiamo modificare anche con degli event handler come abbiamo fatto prima quindi abbiamo messo onclick e abbiamo passato una funzione che andava a modificare lo stato come tramite l'asset dello stato ritornato dalla use state quindi qui notate non ci sono parentesi tonda freccia eccetera perché perché toggle language è un riferimento ad una funzione qui tra le graffe di onclick non devo chiamarla funzione ma devo sempre avere un riferimento ad una funzione quindi o il riferimento a una funzione oppure devo creare una funzione al volo lo faccio come avete visto prima chiusa tonda freccia e scrivo il codice che voglio ok quindi questo funziona modifica lo stato react si accorge che lo stato è modificato e andrà a fare il render e quindi aggiornare l'interfaccia sulla base del nuovo valore dello stato ok ovviamente anche questa operazione è asincrona nel senso che onclick mette sulla coda diciamo delle funzioni di eseguire la toggle language che farà la set english che sarà in coda dentro react per essere eseguita per l'aggiornamento dello stato e questo è un'alternativa prima un toggle se è vero diventa falso e se è falso diventa vero quindi ritorna vero o falso siccome dipende dallo stato precedente lo faccio tramite una callback che calcola il valore quindi io qui non scrivo set english punto esclamativo e come avrei potuto scrivere perché lo stato dipende dal valore precedente quindi passo una callback che calcola la stessa cosa ma lo può fare react e lo può fare in qualsiasi momento se scrivo punto esclamativo e è un'espressione valutata immediatamente da javascript se scrivo e freccia punto esclamativo e è una callback che viene presa data react da eseguire nel momento che ritiene più opportuno ok mi raccomando questo è assolutamente importante da capire un altro caso che però vediamo più avanti è nel momento in cui riceveremo dei dati dal server che tipicamente teniamo in uno stato ci sarà una funzione che va a modificare lo stato una volta che ha ricevuto i dati per esempio dalla fetch per dire che è quella di cui abbiamo parlato all'inizio corso modificando lo stato automaticamente tutta l'interfaccia si modificherà e quindi verranno visualizzati i nostri dati è tutto automatico tutto gestito da react ed è proprio qui che viene fuori la potenza di questo framework ecco se vogliamo scrivere la funzione direttamente nell'onclick come abbiamo fatto prima lo possiamo fare e spesso si scrive sotto forma di queste arrow function perché sono molto compatte e molto comode da scrivere come espressione javascript quindi qui non possiamo scrivere set english eccetera ma sempre aperta chiusa tonda freccia ok perché perché la funzione la toggle language non possiamo chiamarla con dei parametri se ci mettiamo aperta tonda javascript non passa più riferimento alla funzione ma valuta il valore della funzione quindi se io devo passare dei parametri a una funzione dentro qui un'espressione che è un event tangler devo per forza usare un qualcosa di questo tipo aperta chiusa tonda freccia e poi scrivo quello che voglio ok è sbagliato fare diversamente perché sennò viene valutato immediatamente da javascript dunque il primo il valore di default ve l'ho detto viene usato solo per il primo render quindi quando viene creato lo stato e e basta quindi non è che ogni volta che faccio render riparto dal valore iniziale anche perché sennò non servirebbe a nulla lo stato può essere un valore una funzione come dicevamo prima può essere anche calcolato dalle props ma una cosa che vi sconsigliamo perché le props possono cambiare ad ogni render ma la prop se la usate nella inizializzazione dello stato verrà usata solo la prima volta ed è una cosa che può creare molta confusione quindi da evitare tranne nei casi proprio particolari che se vogliamo passare qual è lo stato di reset vabbè allora ci può stare di passarlo nella prop se perché perché magari ci serve da qualche parte che sono una set ci servirà e allora lo usiamo anche come valore iniziale però se no diciamo è molto ci conduce a potenziali confusioni e quindi cerchiamo di evitarlo esempio contatore quindi vediamo una cosa che non sia solo più vero falso abbiamo un valore count set count in state props initial count e quindi questo è quello che abbiamo appena detto di non fare però se io voglio un valore iniziale sono cosciente di quello che sto facendo posso pensare di usarlo ma non mi aspetto che ogni giro del render del contatore ci sia il valore iniziale però magari è comodo perché io ho un bottone di reset a cui voglio associare un valore iniziale ho la mia props che passerei comunque per darla al reset come valore da inserire e poi posso usarla anche come use state a valore iniziale però non mi aspetto che ad ogni render prenda questo valore questo certamente e l'aggiornamento lo faccio come dicevo prima quindi con una callback da eseguire al momento quindi è un semplice contatore tre bottoni reset più uno meno uno ok finiamo solo questi esempi e poi ragioniamo un po' sullo stato per la nostra applicazione vi dicevo prima possiamo fare più use state nello stesso componente ovviamente i componenti diversi anche però nello stesso componente possiamo usare più use state sì e anzi direi che è proprio il motivo per cui gli hooks per lo stato hanno avuto tutto questo successo perché prima che ci fossero gli hooks potevo avere solo una variabile di stato e questo complicava le cose considerevolmente cioè ero sempre lì a gestire degli oggetti eccetera invece qui gestisco se lo stato non è troppo complicato delle variabili no boolean string eccetera va bene ogni tanto mi toccherà gestire gli array come capita nella nostra applicazione però fondamentalmente diciamo posso spacchettare lo stato in una maniera che diventa molto comoda da gestire quindi se io ho un esempio di componenti in cui voglio avere uno stato boolean un intero una string eccetera perché non so ho tre stati da gestire nel mio componente c'è un contatore ma c'è anche la possibilità di nasconderlo c'è la possibilità di visualizzarlo in diversi modi che so grassetto corsivo non lo so quello che volete posso avere tre stati differenti cioè tre variabili di stato differenti create con tre use state possono ovviamente anche essere tutti dello stesso tipo ma perché perché il tipo non esiste io ho tre variabili non ho tre tipi di variabile no ho tre variabili in cui dentro ci metto quello che voglio di solito per mia comodità io che programmo se ci ho messo un numero all'inizio è perché mi aspetto che quella variabile contenga un numero e quindi con i vari set dello stato continuo a metterci dei numeri non ci metto delle stringhe o dei o dei boolean eccetera no perché se no poi non ci capisco più nulla nel mio codice se prima quella variabile conteneva un numero e poi ci viene un boolean e poi una stringa devo sempre testare cosa c'è dentro a meno che non sia un caso proprio particolare diciamo non lo faccio no quale potrebbe essere un caso particolare per inciso beh per esempio un oggetto che ogni tanto non c'è no quindi potrei avere un oggetto che ogni tanto invece è nulla per dire una data che non è impostata piuttosto che boh una stringa ma la stringa vuota c'è quindi non si fa fatica però appunto un oggetto particolare che ho creato io che magari non c'è e quindi allora però ho fondamentalmente due possibilità di tipo di valore l'oggetto o niente ok se anche solo uno di questi stati cambia React provvederà a fare rrendere il componente a cascata di tutto ciò che dipende da quello stato quindi se quello stato è usato come proprietà di altri componenti cambierà le proprietà e andrà a fare il render degli altri componenti ok quindi qui sembra tutto semplice abbiamo detto lo stato lo stato è dentro un componente lo possiamo modificare con l'asset dello stato che ci viene fornito abbiamo fatto sempre degli esempi molto carini in cui però l'asset era chiamata da dentro il componente e se io avessi bisogno di modificare lo stato da fuori e questo diciamo va gestito perché ci sono dei casi in cui io ho bisogno di tenere lo stato fuori dal mio componente per esempio questo è proprio il classico caso in cui lo stato deve star fuori dal componente io ho quattro bottoni e li voglio selezionare ne voglio selezionare uno in maniera esclusiva quindi ho selezionato chess quindi scacchi poker blackjack o go come valore uno solo dei quattro ma se io l'ho stato dentro al bottone e mi dico selezionato come faccio ad assicurarmi che gli altri bottoni non siano selezionati no? cioè lo stato dentro il bottone va bene però se potessi selezionare in maniera indipendente ma se io ne voglio solo uno dei quattro devo trovare una maniera di forzare questa condizione e la maniera qual è è quella di avere uno stato che mi dica qual è il bottone selezionato ma non può stare in nessuno dei quattro bottoni dovrà stare in un altro componente che in qualche maniera è in grado di gestire questi quattro bottoni e quindi lo metto in un componente container che è un gruppo di bottoni qualcosa che mi invento allo scopo per poter inserire lo stato e a questo punto mi viene fuori il problema che io l'handler che mi dice se un bottone è selezionato o no quindi il click sul bottone lo posso mettere solo dentro il bottone non è che posso mettere il click fuori perché poi si posso mettere un handler o un click sul gruppo di bottoni ma non so più quale bottone è stato cliccato se lo metto dentro il bottone sono sicuro che quello è il bottone che è stato cliccato e allora come risolvo questa situazione ecco qui analizziamo la situazione abbiamo una nostra app va bene abbiamo detto abbiamo bisogno di un componente button il gruppo di bottoni che contenga i miei bottoni perché lì metterò lo stato e lo stato sarà questo che io metterò con la use state lo chiamo selected per dire quale bottone è stato selezionato e dentro cosa ci metto ci metterò per mia scelta il nome del bottone che voglio selezionare o l'indice del bottone o l'identificativo del bottone qualcosa che mi dica qual è il bottone che è stato selezionato ok se il nome è unico va bene il nome se no mi serve un id insomma dovete trovare una maniera di identificare il bottone selezionato quindi qui vediamo un esempio se non ricordo male l'hanno fatto con non lo so non lo ricordo più vediamo cosa hanno ah no vabbè poi me l'hanno cambiata me l'ha scritto chosen no chosen non è altra cosa non me l'hanno messa il nome mi sa che vabbè la possiamo scegliere noi e diciamo che dentro ci sta il nome del bottone ok quindi sarà selected una stringa noi decidiamo di tenerci dentro una stringa c'è spoker blackjack o go ok bene e quindi e quindi noi sappiamo che renderizziamo i bottoni quindi dentro il button group ci sarà del codice che è in grado di renderizzare i vari bottoni o è stabilito fisso ho già deciso ci sono 4 bottoni con quei 9 oppure come vedete in questo esempio in cui l'abbiamo fatto un po' più complicato passiamo una props a button group con i nomi dei 4 bottoni sperabilmente unici se li voglio usare come identificativi ok e poi ho il mio componente bottone quindi questo simple button che creo io che poi dentro avrà un button b minuscola cioè il button html diciamo la mappatura react del button html il classico bottone a cui passo delle proprietà e con queste proprietà ne controllo l'aspetto una delle proprietà fondamentali è quale il selected che mi dice se farmelo colorato no cioè mi dice se è stato selezionato oppure no ok vabbè name per dire che cosa scrivere sul bottone e poi mi ha messo questo index allora se mette index diciamo che posso tenere index dentro selected ok sono io che decido che al primo assegno identificativo 1 al secondo 2 al terzo 3 al quarto 4 ci sta se no potevo usare i nomi che volevo scrivere sui bottoni sempre che questi siano unici perché se no quando ne seleziono poi uno che ha lo stesso nome di un altro sono in due essere selezionati se no appunto decido io se index voglio passare mi viene comodo e così via ok quindi questo è lo schema di funzionamento dell'applicazione ci manca ancora un pezzo cioè come modifichiamo questo stato dal click del bottone perché lo stato sta in button group sta qui e il click sta dentro il simple button cioè il button e poi il simple button allora non click deve stare sul button ma il button group deve offrire un metodo per cambiare lo stato e come fa a offrirlo ai componenti figli c'è questi simple button e poi al button c'è un'unica maniera di passare dei valori da un componente padre e un componente figlio ed è quello delle props quindi una delle props passate dal componente padre al figlio deve essere una callback che sarà in grado di modificare lo stato di button group ok questa è la maniera di consentire a un elemento figlio quindi a un componente figlio di modificare lo stato di un componente padre quindi offriremo ai componenti figli un metodo che lo chiameremo setselected no beh scusa setselected è quello fornito da useState lo chiameremo in qualche maniera che chiamerà la setselected ok questo il riferimento a questo metodo deve essere passato fino al simple button insieme a tutte le altre props quindi alla fine passeremo una props choose che sarà un riferimento a una funzione chooseButton definita dentro button group che sarà una funzione appunto che prenderà un valore e lo imposterà in setselected e qui abbiamo risolto il dubbio che avevo prima qui l'esempio è stato fatto con l'indice e non con il nome del bottone avrei potuto anche metterci il nome del bottone con l'accortezza che devo sempre sapere se effettivamente è unico o no se no non ho più la moto esclusione semplicemente ok e quindi nel button ci sarà un click aperto e chiuso e tonda props.choose che è quella che io passo di props index che sarà un'altra props che ho passato che sarà appunto 1,2,3,4 sarà diversa per ogni bottone se lo volevo fare col name ovviamente ho props name ok questa è una scelta vostra implementativa ho garantito l'unicità posso farlo col nome oppure mi faccio l'indice no indice nome devo decidere io se il nome è quello che viene visualizzato chiaramente diventa un po' scomodo usarlo anche come un valore interno perché ci sarà l'interfaccia italiana inglese francese e così via e non posso fare in modo che lo stato debba dipendere da semplicemente da cosa viene visualizzato l'utente in una maniera o nell'altra perché è più carino o non è carino e così via allora in quel caso decido di farmi un indice mio interno all'applicazione che l'utente non vede questo index 1 l'utente non lo vede perché non è renderizzato non c'è scritto c'è 1 poker 2 eccetera eccetera il nome invece lo vede quindi posso decidere di tenere le cose separate è una scelta mia e devo come dire usare tutta la mia esperienza che ho di programmazione per decidere che cosa effettivamente mi conviene fare ok ultimo slide poi vediamo un po' di esempio lo stato è una cosa complicata ovviamente ma la gestione del ciclo di vita ancora di più non per spaventarvi ma insomma comunque è una cosa che dobbiamo imparare a gestire quindi se però i nostri componenti non hanno bisogno dello stato non mettiamocelo per forza perché è una complicazione quindi cerchiamo di scrivere i componenti il più stateless possibile cioè senza stato anche perché ci sono tutta una serie di vantaggi sono più riutilizzabili sono più veloci da eseguire e così via perché sono delle funzioni punto e basta dipendono dai props calcolano il risultato finito non bisogna andare a recuperare lo stato chissà dove e ce lo deve fare act e così via e questo non sempre però è possibile cioè come prima il simple button e il button sono componenti stateless ma il button group deve avere uno stato perché deve dirmi qual è il bottone selezionato nel momento nel momento in cui non so dove mettere lo stato devo cercare un posto ragionevole nella mia applicazione in cui questo stato possa diffondersi a tutti i componenti che ne hanno bisogno siccome lo stato i valori nel anzi i valori in generale non solo lo stato in react possono diffondersi solo verso le foglie dell'albero dei componenti questo vuol dire che se io ho bisogno che lo stato sia accessibile da più componenti in diverse parti dell'albero il posto dove devo mettere lo stato deve essere almeno il componente padre di tutti questi quindi se un ramo un altro ramo entrambi hanno bisogno dello stato come magari vi capita in laboratorio perché avete il filtro in un ramo il filtro dei film in un ramo e la visualizzazione dei film in un altro il vostro stato è i film avete bisogno di mettere lo stato in un componente che poi passa a passare come props le informazioni ai componenti figli questo vuol dire muovere spostare lo stato al componente padre più il primo componente padre comune ok quello che va sotto il nome di state lifting cioè il sollevamento dello stato cioè questo stato va su nell'albero dei componenti fino a trovare un punto in cui si può diffondere a tutti i componenti che ne hanno bisogno ogni tanto questo significa che lo stato finirà direttamente in app che è il primo componente della vostra gerarchia dell'applicazione non è così strano vedere nei progetti all'esame tutto lo stato in app è abbastanza naturale anzi perché se l'applicazione è complicata e avete bisogno di informazioni di stato a destra a sinistra l'unico posto dove mettere è app ok quindi il componente comune padre a tutti si potrebbe gestire diversamente questo stato ma diciamo è un argomento complicato e l'abbiamo lasciato fuori da questo corso perché se no di nuovo non stiamo nei 6 crediti ci sono delle librerie apposta per gestire lo stato diversamente però diciamo portano tanta complicazione servono per applicazioni veramente complicate ci portano fuori strada rispetto a quello che è il nostro obiettivo cioè realizzare un'applicazione relativamente ben scritta ben scalabile e imparare tutti i principi di base della programmazione web moderna quindi delle single page application ok lo stato sarà passato ai figli usando le props e se avete bisogno di modificarlo visto che l'avete spostato in componenti sempre più in alto nella gerarchia dei componenti dovrete da questo stato che contiene da questo componente che contiene lo stato passare le callback necessarie a fare le modifiche ai componenti che effettivamente devono scatenare le modifiche tramite il caricamento dei dati tramite gli eventi i click e così via i change eccetera ok quindi questo discorso sullo stato introduttivo l'abbiamo terminato e quindi direi che andiamo a vedere come sempre in pratica qualche cosa sta funzionando sempre tutto quindi io ho aperto come sempre il visual studio code c'è online questo esercizietto ma diciamo che ci serve solo come guida nel senso che vogliamo aggiungere lo stato alla nostra solita applicazione che è il react qa nella versione in cui l'abbiamo lasciata l'altra volta ho solo fatto qualche piccolo aggiustamento e in particolare adesso ve li dico uno è ho messo un identificativo alle risposte perché perché ci viene comodo perché poi quando andremo a fare delle modifiche cancellazione eccetera non possiamo identificare la risposta da quello che c'è scritto perché quello che c'è scritto non è garantito essere unico devi prendere quello che c'è scritto chi è l'autore eccetera e allora diamo un identificativo e facciamo prima come se questi dati fossero stati caricati da un database in cui abbiamo un identificativo unico quindi questa è una piccola modifica che ho fatto quindi ho sparato dei numeri a caso per dire unici però per dire qual è l'id di ogni risposta e poi ho fatto per comodità un componente my row che viene creato qui nel momento in cui devo creare la riga della risposta ok l'applicazione è uguale identica ho solo creato questo componente perché mi viene poi comodo dopo per andare a fare delle delle modifiche e d'altronde ha il suo senso logico cioè la risposta è il modo di visualizzare una risposta quindi questo è proprio il classico caso in cui vorrei un componente il componente incaricato ricevuto l'oggetto risposta di visualizzarlo punto basta ok quindi ve la faccio vedere funzionare così ci ricordiamo com'è fatta ma sono sicuro che ve la ricordate ma Pasqua magari ci cancella un po' di cose allora devo entrare in React qua questo è già sul git chi lo volesse provare è già lì e quindi in week 07 c'è il nostro React qua e c'è già tutto come sempre quando partiamo da questi codici la prima cosa da fare è npm install questo era il progetto creato con quel javascript svc che adesso funziona l'ha messo a posto comunque voi create pure tranquillamente il progetto con javascript senza svc va bene lo stesso non cambia nulla diciamo svc dovrebbe essere solo un traduttore un po' più veloce ma a noi cambia nulla una volta che l'avete scelto vi finisce nel package json e quindi dovete stare con quel tipo di progetto con quel traduttore se non vi va bene tanto voi modificate fondamentalmente solo i file in src cioè app e così via quindi se non vi va bene create un nuovo progetto prendete il vostro app lo mettete nel nuovo progetto buttatevi al vecchio e avete risolto ok io ho fatto npm install adesso dovrebbe esserci tutto e quindi faccio l'npm run dev come facevamo l'altra volta spero che funzioni faccio o così si apre e questo è ciò che vedevamo l'altra volta vero? quindi più o meno cioè più o meno no? è uguale ecco ho fatto una piccola modifica ancora che mi sono scordato di dirvi che però non è di componenti ma è proprio solo di visualizzazione io ho commentato via il css css di app e anche in main.js il css di index.css perché? perché questo è quello che ha scritto il template quando mi ha creato il progetto ma io non voglio di mezzo del css che non ho scritto io ok? perché per esempio se lascio questo no adesso ho cancellato il file però se lasciamo questo mi veniva allineato a metà chi è che l'ha messo? sono io? cosa ho fatto con bootstrap? non ho fatto niente era il default che ha interagito in questa maniera con bootstrap e me l'ha messo a metà ok? togliamolo così il default è solo bootstrap punto e basta quindi sappiamo da che punto partiamo se poi voi avete bisogno di qualcosa vi aprite l'app css cancellate tutto lì dentro e ci mettete il vostro css spero poche regole di cui avrete eventualmente bisogno le mettete lì dentro e avete risolto diciamo il vostro problema allora cosa facciamo? cerchiamo di capire dove cioè prima di tutto cosa vogliamo fare quindi allora vogliamo aggiungere lo stato a questa applicazione ma perché vogliamo uno stato? perché noi vogliamo rendere dinamica la gestione della lista delle risposte quindi questa è la lista delle risposte io voglio poter far funzionare comincio dal far funzionare il bottone vota adesso io schiaccio faccio clic ma non succede nulla vorrei che il voto venisse aggiornato ovviamente viene aggiornato solo dentro la memoria dell'applicazione non è che gira sul client perché in questo momento io non ho un server quindi è tutto quello che posso fare per ora è questo però vorrei che questa cosa avvenisse perché l'applicazione si ricordi che io ho premuto vote quindi c'è stato un voto in più ho bisogno di uno stato devo decidere dove mettere questo stato la prima cosa che dovrete fare è decidere dove mettere lo stato e che cosa contiene lo stato allora quindi cosa potrei pensare di fare beh potrei dire ma io voglio modificare solo il voto per ogni riga mi creo uno stato score e uso quello anziché il valore originale anzi il valore originale io lo metto come valore di inizializzazione del mio stato no? ci può stare sì se voglio solo fare questa operazione potrebbe bastare ma in realtà io vorrei pensare un pochettino più in prospettiva cioè una cosa di questo tipo va bene nel momento in cui faccio un esempio e voglio modificare il mio score così nell'interfaccia ma io in prospettiva voglio un'applicazione che sia in grado di gestire tutta la lista delle risposte no? quindi non solo modificare lo score ma come vedete da qui sotto c'è un bottone anche aggiungere una nuova risposta vorrei poter non c'è ma potenzialmente cancellare una risposta mettere un altro bottone per modificare lo score diminuendolo oppure mettere un altro bottone edit per modificare l'autore o la risposta e così via no? quindi che cos'è che io ho la data che cos'è che io vorrei modificare vorrei modificare tutti i valori che corrispondono alle risposte che visualizzo no? questi sono fondamentalmente eh gli gli oggetti che io ho messo in answer list no? che sono quelli che in questo momento vengono visualizzati ok? quindi questo è lo stato che io vorrei mantenere da qualche parte c'è una domanda? si è la prima fila solo nel senso possiamo star così se per voi va bene si proviamo il tema chiaro allora se qualcuno sa dunque ci saranno i settings preferences team color team dark light vediamo così si vede meglio? ok benissimo possiamo anche tenerlo sempre va bene ok bene qualcuno seguiva allora dicevamo answer list answer list è un un array ma abbiamo detto che nelle variabili di stato va benissimo a tenere degli array quindi non c'è non c'è problema ovviamente non posso fare uno stato per ogni risposta perché perché nel momento in cui ne aggiungo uno che faccio dove lo metto non è che posso modificare il codice io vorrei che aggiungendo cancellando eccetera avessi sempre solo uno stato su cui vado a lavorare ok quindi abbiamo capito che il nostro stato deve essere un array deve contenere fondamentalmente tutte le informazioni che sono visualizzate per la lista delle risposte perché io voglio poterle potenzialmente un po' più avanti modificarle editarle cancellarle tutte o pezzetti devo solo più decidere dove metterlo no come faccio a decidere dove metterlo allora intanto vediamo dove viene usato che è la cosa più semplice per partire answer list adesso l'ho selezionato così il visual studio dovrebbe evidenziarmi dove viene usato ecco viene usato qui in my table viene passato come props list of answers answer list ok quindi in questo momento questo valore che non è uno stato è una costante che io ho messo nel codice perché avevo bisogno di metterlo da qualche parte nel codice ma costante viene passata come props a my table il my table cosa fa la prende quindi in questo props list of answers fa la mappa e crea le mie righe con le informazioni ok siccome questa informazione della lista viene spacchettata e usata per essere passata ai vari componenti my row che io creo per creare la tabella qui ho bisogno che lo stato non stia più in basso di my table nell'albero c'è my table e poi c'è ci sono le righe vediamo se si vede col plugin così intanto facciamo un po' di debug plugin si apre così dove sta eccolo qua components questo è l'albero row questa è la row di bootstrap my table e poi c'è la my row ok se io metto lo stato più giù di my table vuol dire che una row non vedrà quella che c'è nell'altra row quindi il punto più in basso dove io posso metterlo è in my table se poi avrò bisogno di portarla più in alto ci penserò e lo sposterò dopo come sapete quando scriviamo il codice mano a mano che facciamo le cose magari ci accorgiamo che abbiamo fatto una cosa che non va bene e modifichiamo il codice per adattarlo alla nostra nuova idea io comincerei a mettere lo stato dentro my table come facciamo allora abbiamo appurato che va dentro my table qualcuno ha delle idee differenti dite pure non c'è problema di dire qualsiasi cavolata ma anche cose giuste o altre proposte non so qualcuno lo vorrebbe mettere in app si può anche mettere in app non c'è problema metterlo in app devo solo da app passarlo poi al my table c'è una domanda si potrebbe mettere anche più in basso dentro il tbody si potrebbe mettere nel tbody ma non qui nel senso che io lo stato lo posso mettere nei componenti che definisco io tbody è un componente react di quelli predefiniti che quindi non posso modificare perché la funzione di tbody non l'ho scritta io ma sta dentro la 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 libreria react ok se io mi faccio il my tbody posso mettere lo stato dentro il my tbody fare use state dentro il my tbody che poi fa return tbody ed è la stessa cosa questo lo posso fare quindi questa è un'interessante osservazione lo stato posso metterlo nei componenti che definisco io e se ho bisogno lo definisco non c'è problema questo momento lo lascerei in table perché se no devo creare un nuovo componente e devo fare un po' di codice in più da scrivere ok visto che il tempo è tiranno come sempre stiamo su questa soluzione di table se non mi dispiace allora aggiungiamo solo questo stato poi usiamo il resto del tempo dopo quindi abbiamo ancora un'ora e mezza per aggiustare tutto questo esempio e dire due parole su come gestire lo stato nel momento in cui è un array e un oggetto perché è un po' più complicato c'è qualche slide a riguardo allora come faccio a mettere uno stato in un componente abbiamo visto prima const aperta graffa no aperta quadra scusate volevo dire come l'ho chiamato giusto per non far più tante pasticci ve lo chiamo list ma cambio i nomi solo per farvi capire cosa viene mappato con cosa in giro per l'applicazione se no potremmo chiamare tutto nella stessa maniera però poi ci si confonde secondo me e non si sa più che cosa è un attributo che cosa è una props che cosa è una variabile locale della funzione e così via quindi l'ho chiamato list potremmo chiamarlo list answer non vorrei chiamarlo list of answer perché è una props ok e poi fate confusione tra la props e la variabile locale quindi se l'ho chiamato list scrivo set list qui non c'è mai dubbio uguale use state e tra un po' passiamo al valore iniziale use state deve essere importato eh se voi scrivete così guardate facciamolo va che tanto poi in laboratorio capita quindi ho fatto così salva use state questo è quello che capita quando non si vede più nulla che si fa si va in console e in console ci verrà fuori un listone di problemi guardiamo sempre il primo use state is not defined e va bene ok e andiamo a metterlo import com'è use state ah no scusate qui per ora ci fidiamo e copiamo ok poi daremo due indicazioni in più su come importare questa roba ma tanto gli import una volta che sono fatti un po' come l'include stdio è sempre uguale ok quindi questo l'ho salvato e adesso qualcosa si vede quindi non c'è più l'errore quindi ricarico l'applicazione per far resettare la console se non la cancellavo ma vedete non ci sono più errori in questo momento c'è uno stato ma non è che c'è niente di diverso da prima c'è solo uno stato non usato ok è solo non usato infatti vedete che list e set list sono in grigio non sono usati da nessuna parte ok poi pensiamo al valore iniziale ma se io dentro list ho la lista delle risposte ok che io tra poco metterò in qualche maniera questa è la lista che deve essere visualizzata nella tabella quindi non ho più props list of answers da usare come array su cui scorrere ma ho list ok list senza props list non è una props è una variabile locale lo stato è una variabile creata da use state che mi viene messa a disposizione come variabile locale non è una props ok quindi salvo e vedrete cosa succede di nuovo nulla cosa c'è dentro list is undefined non c'è un valore iniziale qual è il valore iniziale se non metto un valore alla chiamata la funzione è undefined e non posso farci sopra map allora qual è il valore iniziale che mettiamo a questo stato è la lista di prima props list of answers ci arriva perché gliel'abbiamo fatta arrivare come prima prima avevamo table list of answers uguale answer list che è la const che abbiamo sopra list of answers viene vista dentro my table come props list of answers ok salviamo e c'è di nuovo tutto quanto ricarico per far vedere che non ci sono errori javascript ok poi andiamo giù giusto per verificare che sia tutto a posto ok quindi qui abbiamo sistemato list quindi la lo stato e adesso vorrei poi far funzionare il bottone di dove andate il bottone di vote ma questa è una faccenda un po' più complicata e quindi lo facciamo dopo prima però di fare pausa aggiusto solo una cosina che mi sono accorta ieri non ho sistemato ossia che io avevo introdotto questo id questo id però però poi nella map no questa map ho ancora il mio index allora nel momento in cui ho un id unico garantito nel mio oggetto il key cioè la chiave che io metto come chiave necessaria in tutte in tutti gli array che uso nel JSX perché react mi richiede questo può essere tranquillamente l'id unico che io so essere unico della risposta ok e quindi mi evito di mettere l'index che è l'indice cioè la posizione nell'array di quell'oggetto che avevo messo l'altra volta perché non sapevo che altro mettere perché non avevo l'id nel momento in cui ce l'ho posso usarlo ok e tra l'altro averlo vedrete che mi può tornare comodo perché poi nel handler quando io avrò il bottone vota devo dire quale ho votato e per dire quale ho votato ho bisogno di un identificativo posso fare 1, 2, 3, 4 come abbiamo visto nell'esempio dei bottoni ma posso anche avere il mio identificativo se ce l'ho a disposizione che è il caso più classico dell'applicazione vera perché l'identificativo l'ha creato il database e me lo sono portato dentro quando ho caricato i dati ok io direi che se non avete domande facciamo un po' di pausa vi faccio il commit intanto di questo che ho modificato e dopo finiamo questo esempio ragionando anche un po' bene su cosa vuol dire portarsi dentro degli array nello stato perché non è proprio del tutto banale va bene non vedo domande quindi faccio facciamo pausa grazie a tutti